Dove, cosa, perché e quando si occupa di tutto e non lascia nulla al caso? Book in Toscana, la nuova piattaforma di prenotazione online del sito www.turismo.intoscana.it Informazioni costantemente aggiornate e geolocalizzate, ricerca di servizi e destinazioni e soprattutto l'accesso diretto a un patrimonio unico composto dalle oltre 15.000 strutture ricettive toscane.